Test antigenici rapidi su tutte le scuole superiori della Toscana. La Regione, infatti, come annunciato dal Presidente Eugenio Gianni, ha deciso di estendere l'indagine epidemiologica a campione a tutte le scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie, prevedendo poi anche uno screening sul personale scolastico, docente e non docente, di ogni ordine grado. Lo screening, tramite test gratuiti antigenici semirapidi, coinvolgerà così da subito i ragazzi dei 150 istituti toscani superiori, nove di questi nell'Arettino, già selezionati dall'Agenzia Regionale di Sanità per poi estendersi progressivamente a tutte le scuole della Toscana, 465 in totale. La campagna Scuole Sicure era partita ad Arezzo la scorsa settimana. Il primo istituto della provincia dove erano stati eseguiti i tamponi era stato il Liceo Petrarca. Una decina gli studenti controllati, tutti risultati negativi. La campagna prevede poi di testare ogni settimana 5 studenti diversi che frequentano dalla prima alla quinta classe di una sezione selezionata di ogni scuola, ossia 25 studenti a scuola alla settimana. Screening che adesso si estenderà a tutte le scuole superiori della regione. Parallelamente sarà attivato anche uno screening volontario per il personale scolastico docente o non docente a cui si accederà tramite prenotazione su portale regionale con esecuzione dei test presso i drive-thru. Si stima che a regime saranno così effettuati oltre 18.000 test antigenici ogni settimana sino a giugno, vale a dire per tutta la durata dell'anno scolastico. Dei tamponi eseguiti, circa 1.000 al giorno, saranno riservati al personale scolastico.